E' di almeno 4 agenti feriti il bilancio di disordini scoppiati durante la mobilitazione di protesta dei pescatori pugliesi organizzata questa mattina a Bari. Oltre 400 addetti delle marinerie e delle imprese del settore provenienti da tutta la regione si sono dati appuntamento tra il porto e il molo San Nicola per chiedere all'Unione Europea misure meno restrittive in materia di pesca nel Mediterraneo, come ad esempio quella che impone l'utilizzo di maglie più larghe per le reti, facendo perdere di fatto circa il 50% del pescato. Le tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine avrebbero avuto inizio quando il corteo non si sarebbe fermato nel punto stabilito nei pressi del Castello Svevo, provando a soperare il blocco della polizia per entrare nel porto. A questo punto sarebbero stati lanciati alcuni petardi all'indirizzo dei poliziotti, uno di loro avrebbe riportato un trauma cranico mentre altri tre agenti sono rimasti feriti e medicati dal personale del 118 presente sul posto. Oltre alle bombe carta, alcuni pescatori avrebbero anche fatto ricorso alle pistole di segnalazione che si utilizzano in mare, mentre le forze dell'ordine hanno risposto con i lacrimogeni. Dopo aver tentato di sfondare il blocco della polizia e arrivare al porto, il corteo è proseguito sul lungomare sino al successivo barco di accesso all'aeroportuale. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per alcune ore.